Sì Oh Oh Stai a posto? Eccole Ciao Stefano C'è un primo piano Sì Nico stanno facendo il primo piano E' loro Ma che stai facendo? Eh sto cercando di trovare La soluzione Non se non cazzo sta cosa Non riesci nemmeno a mettere un video Ma che ne pensate del tenente? Chiedi a lei prima No io conosco troppo poco Beh alla fine Voi ci uscite da un mese ci uscite No Esatto da una settimana Tu devi dare un giudizio Ma io sarei di parte Voi dovete essere Cioè Cioè Te la fai di puterlo No Questa è la no Mi vediamo qua Vai va Te ne vetti stai vicino al loro Noi Aspetta se c'è il primo piano Ahhhh Di favore non veniamo lì No non è il momento Pure in Arlanti Elisabeth Town Un sogno per domani Romantica qui invece Sei un romanticona te ne hai Fidami No no così Fai così Fai così Fai tutto il vip Del cazzo con gli amici Poi alla fine Un succubo delle donne Schiavo Girati Schiavo Schiavo di merda Guarda questo film Guarda guarda che porco che è Nicola Sempre questi film scegli Ma poi cacchio eh E' io E' io l'ho scelto Sei un porco Nicola Allora Allora